Siamo giunti ormai alla festa del Santo Natale del Signore e quest'anno a causa delle restrizioni e delle indicazioni che dovremo seguire anche le celebrazioni subiranno qualche piccola modifica. La vigilia del Natale celebreremo la Santa Messa alle ore 18 nella Chiesa di Sant'Antonio e alle ore 20 qui nella Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo. In contemporanea, per favorire una maggiore partecipazione, la Santa Messa sarà trasmessa anche nella Chiesa della Madonna di Costantinopoli dove al momento della comunione un ministro potrà distribuirla ai fedeli presenti quindi si potrà partecipare sia qui nella Chiesa di Santi Pietro e Paolo che nella Chiesa della Madonna di Costantinopoli per un totale di circa 90 presenze. Il giorno del Natale, il 25 dicembre, le sante messe saranno celebrate alle 9 e alle 11 e 30 nella Chiesa di Sant'Antonio alle 10 e 30 e alle 18 e 30 qui nella Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo alle ore 17 nella Chiesa di San Francesco. Abbiamo aumentato di una celebrazione oltre a quelle canoniche domenicali proprio per dare la possibilità a quante più persone di partecipare in sicurezza nel rispetto del distanziamento fisico e ovviamente invito tutti i fedeli ad adottare le precauzioni del caso, quindi la mascherina e a portare con sé, come abbiamo già detto altre volte e come è stato ribadito dai vescovi italiani l'autocertificazione per ricarsi alle celebrazioni eucaristiche senza alcun problema quindi potendo partecipare anche dal punto di vista legale senza incorrere in alcun tipo di problema di sanzione.